Un saluto da Dedalo, il settimanale di approfondimento di architettura e design che ogni mercoledì tenta di approfondire degli aspetti diversi dell'architettura e del design. Appunto, design will save the world è il nostro motto e cercheremo di parlarne proprio con il nostro ospite di oggi, Marco Zito, designer. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'illustre. Il design può salvare il mondo, ma forse è un po' belletario, la questione forse è un po' più complessa riguarda sistemi più ampi. Però se consideriamo il numero di relazioni che attuiamo ogni giorno con gli oggetti, credo che il design possa intervenire significativamente nella vita di tutti i giorni. E quindi ogni oggetto è un processo vero e proprio, dalla produzione all'uso dell'oggetto, quindi diciamo sono argomenti assolutamente centrali nella vita quotidiana. Il design forse non è la salvezza del mondo, ma può contribuire sicuramente. Ma contribuisce all'utilizzo del mondo, alla prassi dell'oggetto. Qual è il tuo contributo eventualmente alla salvezza del mondo, in qualche maniera? Non so se posso esprimere un numero, una percentuale, non lo so sinceramente, francamente. Credo che l'attenzione nel mio lavoro di progettista sia quella di ridurre il più possibile l'impatto, in senso lato, degli oggetti che disegniamo. Vale a dire, considerare una semplificazione nel processo di produzione, ma anche considerare il ciclo di vita del prodotto, laddove ovviamente la committenza, l'azienda con cui si lavora è sensibile in relazione all'argomento. Ecco, abbiamo alcune immagini di alcuni tuoi progetti che dovrebbero andare in onda, insomma, fra qualche secondo. Hai per esempio in mano adesso una matita. Raccontaci un pochettino del percorso di realizzazione di questa matita. Questo è un piccolo oggetto che però ha un significato, io ci sono particolarmente affezionato, è la matita celebrativa dei 150 anni d'Italia. E proprio in relazione ai processi, questa matita è realizzata utilizzando le tecnologie classiche di produzione, vale a dire, sappiamo che le matite sono o di sezione circolare o esagonale. Abbiamo semplicemente deciso di unire le due sezioni, quindi metà circolare e metà esagonale, chiamando la matita l'unita. Due legni, due essenze, una un po' più scura, più mediterranea, più rotonda, più comoda e una invece più spigolosa, con un legno più chiaro, quindi più nordico. Questo rappresenta l'unione tra nord e sud del paese. Ecco, anche un'attenzione all'ergonomicità, sostanzialmente. Sì, semplicemente la matita rotonda sul tavolo rotola e rischia appunto di cadere. Ecco, la vediamo in onda adesso. La sezione esagonale invece impedisce alla matita di cadere, quindi rompere la graffite. Perfetto. Questo è il disegno della matita? Sì, infatti è molto semplice, si vede diagrammatico e spiega il progetto con quattro segni. Ecco, questa è diciamo una tendenza che cerco di riportare su tutti i progetti che faccio. Ecco, in tutte le immagini che riportiamo abbiamo ottenuto non solo riportare l'immagine dell'oggetto, ma anche quella del disegno. Sì. Parlando anche di quella splendida lampada che tu, tra l'altro in un video che c'è nel tuo sito, descrivi come sviluppo di un foglio piegato, se non sbaglio. Sì, sì. La lampada deriva proprio da un processo di gesto quasi, la possibilità di schermare la luce. Appunto, non è quasi stata disegnata quella lampada, è stata modellata direttamente. Quindi con questi fogli all'inizio, nello studio utilizziamo molto i modelli fisici, ancora prima che i render. Quindi era semplicemente l'idea di avere un foglio piegato che schermava la lampada e quindi usare una luce. Ecco, ci vediamo proprio in video, ci descrivi, ci racconti. Esatto, vedete una serie di modellini appoggiati sul tavolo, questo appunto è il risultato finale. Anche questa è una lampada che potenzialmente può durare molti, molti anni perché è un unico foglio di alluminio ripiegato. Quindi insomma, un solo, sostanzialmente un solo materiale, eccetera, eccetera. Ecco, ultima domanda a proposito dei materiali. Hai dei materiali che tu prediligi rispetto ad altri oppure sostanzialmente no? Il materiale che mi affascina di più ed è il materiale con cui ho iniziato a fare il designer è il vetro. Nello specifico il vetro soffiato di Murano, per una serie di motivi. Io credo però che la qualità più affascinante del vetro sia la sua fragilità. E quindi quando si disegna, si ragiona attorno al progetto in vetro soffiato, si ragiona con grande rispetto del materiale. Anche perché è un materiale semiliquido che ha una sua autonomia, una sua volontà quasi. E' il papà dei polimeri, delle materie plastiche, è un materiale che ha un fascino incredibile. E quindi forse parte tutto da lì il progetto. Ecco, proprio a proposito di questo abbiamo visto per un attimo in onda Breaking the Mold, che è una mostra al Direttoren House di Berlino, ma anche un percorso didattico perché Marco Zito non solo è designer, ma è anche docente allo UOF di Treviso appunto di design industriale, disegno industriale in sostanza. Ecco, come è nata questa mostra, come è nata questo progetto e quali sono i risultati sostanzialmente? Allora, diciamo che la professione alimenta la didattica e viceversa. Ciò che più mi preme è trasferire agli studenti un processo, un metodo. Non vorrei parlare di educazione, il termine educazione forse è un termine che si lega di più a un altro tipo di scuola. Mi piace pensare al trasferimento di dati verso gli studenti che a livello universitario sono maturi per poter elaborare. Quindi il processo che io faccio di trasferimento di dati dalla mia professione all'università è un processo molto faticoso, non scontato, non si racconta semplicemente ciò che si fa a bottega. Sono, diciamo, dati... E lo si fa fare come in questo esempio, no? E lo si fa fare. Allora, questo è un progetto che determina, credo, il mio successo come docente, perché è un progetto che nasce, è nato con gli studenti all'interno dell'università, è un gruppo di miei ex studenti, con i quali abbiamo continuato a lavorare anche successivamente. Abbiamo costituito un gruppo nel quale convergono figure anche eterogenee, quindi esperti di materiali, videoartisti, eccetera. Abbiamo raccontato una storia relativamente complessa, cioè ragionare attraverso una sperimentazione spinta, anche a volte rischiosa, no? In vetreria, tutti i prodotti sono stati reali prodotti, tutti gli esperimenti sono stati... Quello che vediamo è una forma di sperimentazione sul vetro, sulla forma... Assolutamente. Breaking the mule vuol dire andare al di là dello stampo. Infatti abbiamo ragionato con una serie di stampi, con materiali, compositi, innovativi, quindi tessuti ceramici, Kevlar, carbonio, e quindi abbiamo soffiato all'interno di questi stampi che ci siamo autocostruiti, una serie di forme che hanno acquisito appunto forme, texture e colorazioni molto interessanti. Ovviamente il processo poi è stato documentato da una serie di video, sono 11 video per altrettanti esperimenti, che appunto raccontano questo strano processo, anche di lavorazione al vero, perché poi la cosa più affascinante della vetreria sono i ritmi, la lavorazione e l'interpretazione dell'istante, perché il vetro solidifica velocemente, questo è un altro aspetto affascinante. Appunto come si diceva è una materia che quasi ha una volontà propria. Ha una volontà propria, il vetro è un signore difficile, quindi va secondato più che controllato, quindi diciamo che questi esperimenti hanno riservato delle sorprese molto belle. Io poi devo tra l'altro ringraziare il gruppo intero degli ex studenti che ha lavorato veramente bene. Perfetto. I risultati di questa mostra a Berlino come sta andando? Quali sono? I risultati sono eccellenti, devo dire, perché ha avuto un riscontro mediatico con i vari blog che si occupano di design a livello internazionale, notevole. Non ultimo la pubblicazione del progetto su Domus Web. Moco loco ho trovato anche io. Esatto, quindi speriamo di continuare così, cioè il progetto non si ferma qui, continueremo a sperimentare, continueremo a portare in giro questa mostra, stiamo lavorando per la prossima Biennale di Architettura di Venezia. Fantastico. Senti, a proposito di architetti appunto, tu ti sei laureato con Vittorio Gregotti. Cosa rimane di Vittorio Gregotti, di un mostro sacro dell'architettura italiana, nella tua formazione, nel tuo percorso lavorativo e anche professionale? Ma rimane, diciamo, la capacità di comprendere il progetto in tempi veloci, questo ci ha insegnato Gregotti, lasciandoci un'assoluta libertà nel lavoro di tesi. Noi abbiamo fatto una tesi, peraltro, che stava a cavallo tra l'architettura e l'urbanistica, abbiamo ragionato sui nuovi paesaggi veneti, dopo mi sono ritrovato a fare il designer principalmente, e quindi resta la capacità di Gregotti di riuscire a comunicare con poche parole i pregi e i difetti del progetto. Anche se devo poi dire che il mio vero maestro dal punto di vista del design è Alberto Meda, col quale ho insegnato all'Università UAB di Venezia per cinque anni. Perfetto. Senti, tornando al design, design for all, è quasi un altro slogan in sostanza. Quanto poi in realtà il design è for all? Adesso io disgraziatamente non ricordo la fonte di questa citazione, di cui si parlava, peraltro, anche prima, del fatto che se l'arte ha come obiettivo, in qualche maniera, il museo, il design ha come obiettivo il mercato rionale. Questo quanto è vero poi nel design contemporaneo? Dovrebbe essere vero i termini assoluti, il design dovrebbe essere davvero per tutti. È chiaro che non è così, cioè c'è una parte di design, tornando al design può salvare il mondo, che crea anche delle vittime, nel senso metaforico del termine. Si acquista un oggetto perché magari è comunicato molto bene sulle riviste, ma poi in realtà non contiene quelle qualità che promette attraverso la comunicazione. È chiaro che il disegno degli oggetti che si usano quotidianamente dovrebbe essere rivolto a un pubblico più vasto possibile, comprensibile, corretto, immediato, eccetera, eccetera. Perfetto. Ecco, per questa prima parte di Deda lo abbiamo concluso. Arrivederci dopo la pubblicità con il direttore della Fondazione Benetton Studi e Ricerchi, Marco Tamaro. Eccoci qui alla seconda parte di Deda lo abbiamo con noi Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Iniziamo parlando, si parlerà di consumo di suolo sostanzialmente, e vi leggerò un breve capoverso del rapporto annuale dell'Istat 2012, proprio per introdurre... Intanto salutiamo il... Buongiorno. Buongiorno, il dottor Tamaro, buongiorno. E grazie di essere con noi. È stato un piacere. Ecco, iniziamo subito con appunto quello che dice l'Istat. La dispersione insediativa che si è progressivamente andata affermando come forma di urbanizzazione prevalente nel nostro paese rappresenta un modello poco sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Più avanti spiega. L'effetto finale di questa forma di urbanizzazione è l'aumento del costo relativo della fornitura di infrastrutture, maggiore difficoltà nell'articolazione capillare dell'offerta e di servizi, in particolare quelli connessi alla mobilità, alla crescita delle congestioni sulle rete e costi esterni ambientali. Sostanzialmente, chiediamo al professore cosa significa questa affermazione da parte dell'Istat. Ma, vede, a me fa molto piacere che l'Istat sia così netto e chiaro. Il fatto di saper usare i dati, interpretare i dati, è la chiave fondamentale per interpretare i processi, perché se no si parla di qualità. I dati sono chiari. Allora, c'è un modello insediativo che si è sviluppato in tutta Italia, ma soprattutto nel nord-est, che si chiama dispersione insediativa. Dispersione insediativa vuol dire che ogni piccolo comune si fa la sua piccola zona industriale. Che è, come si diceva, l'urban sprawl. Esattamente. L'urban sprawl vuol dire come prendere le case e sparpagliarle da un aereo e dove vanno, vanno. Perfetto. Questo è quello che abbiamo fatto. Interromperla un attimo. È possibile che nel Veneto la quantità notevole di centri abitati sviluppatessi a livello, diciamo, concentrico, abbia poi prodotto questo effetto urban sprawl? Allora, è un po' complicata, però fondamentalmente c'è una storia dietro. I piccoli centri, quando si parla di campanilismo, di campanili, i piccoli centri, la struttura delle diocesi, storicamente, hanno portato a questa disseminazione di piccoli agglomerati. Il punto è che poi, nel momento in cui, col secondo dopoguerra soprattutto, si è partiti con una politica di sviluppo a scala esponenziale, attorno ad ogni piccolo centro si è creato uno sviluppo urbanistico, lungo tutti gli assi viari si è creato lo sviluppo urbanistico, ogni piccolo centro ha avuto mettere la sua piccola zona industriale e commerciale. Il problema è che finché si andava su una zona commerciale con un furgoncino, eccolo qua, basta guardare. Le immagini sono eloquenti, non serve dire molte cose. Questo è l'effetto perverso, qui sono le foto che abbiamo realizzato noi per un laboratorio Postumia, si chiamava, per vedere cosa è successo attorno alla Via Postumia, che è lì dal 148 a.C., disegnando, è la pedemontana, bastava saperla interpretare a suo tempo. Lungo la Via Postumia si è disseminato una quantità di insediamenti, soprattutto industriali, di dimensioni pazzesche. Poi vediamo anche, ovviamente abbiamo fatto delle foto dell'elicottero, il Veneto non è tutto brutto, anzi ci sono dei posti meravigliosi, splendidi, però questa diffusione delle zone industriali e residenziali attorno a questi piccoli nuclei originali ha creato delle perversioni ed è molto semplice da spiegare. Allora, se è una mobilità urbana, ovvero se sono abitazioni, io creo delle enormi congestioni di autovetture per la gente che si sposta da dove è andato a vivere fuori città alla città. E quindi le strade che non bastano più, le code infinite, i semafori, la gente che si arrabbia e diventa nevrastenica. Ma se sono invece le zone industriali, sorgono degli altri problemi, zone industriali, cave ed intorni. I mezzi che servono le zone industriali sono enormi, e li vediamo, e la viabilità non è adeguata. La logistica delle zone industriali ha un ruolo centrale. E noi non possiamo pensare di servire tutte quelle zone industriali con infrastrutture adeguate a quella necessità. Non ci arriveremo mai neanche con la rete informatica, non ci arriviamo con la rete stradale, non ci arriviamo in nessun modo. E i costi per questi spostamenti a velocità ridicole sono enormi in termini di costo, vero e proprio, ma sono enormi in termini di costo sociale e in termini di costo ambientale. CO2. Certo. E aumentano il pil. Questa è la perversione. perché se io faccio più gasolio aumenta il pil. Ma non ho prodotto ricchezza, ho disperso inutilmente del carburante. Assolutamente. Ecco, e invece il modello italiano non è l'unico modello possibile. Vediamo come per esempio i paesi del nord Europa hanno dei modelli molto diversi di urbanizzazione. Ci vuole raccontare un pochettino qual è un'ipotesi differente? Per esempio in Inghilterra c'è la tradizione delle cosiddette green belt che significa cintura verde. Hanno definito quello che c'era a Treviso solo che era nel 500. Nel 500 a Treviso avevano detto per scopi difensivi 500 metri fuori dalla città non si può fare niente. Certo. Eppure alberi immagino. Nulla. Doveva essere tutto aperto come un castello. Allora invece nelle città inglesi hanno deciso di fare queste green belt che sono delle fasce verdi attorno alla città. Questo vuol dire che la città si è sviluppata in un certo senso poi è andata in altezza. Certo. Non potendo più allargarsi e ci sono creati nuovi nuclei fuori. Ma nella stessa Germania basta andare nell'area della Rur che fa un certo effetto. Però di fatto hanno concentrato lì tutti gli insediamenti produttivi industriali e quindi reti di logistica adeguate su scala adeguata grandi zone intermodali collegamento con la ferrovia. Noi viaggiamo sempre su gomma per due motivi. Primo perché la ferrovia non arriva. Secondo perché nessuno vuole più far magazzino e se non vuoi far magazzino il magazzino lo fai sui camion che hanno sempre la merce sopra e vanno a portarla a richiesta. Estremamente interessante. Quindi è un sistema di sviluppo questo lo dice l'ANAS non lo dice qualche verde è un sistema di sviluppo che si sta torcigliando su se stesso diventando sempre più insostenibile. ecco una cosa che ci porta magari un po' fuori strada ma secondo me è molto interessante le città inglesi tendono a svilupparsi verso l'alto in verticale quindi alla fine il ruolo del grattacielo che spesso uno si domanda ma perché costruire un grattacielo alto tot metri con delle difficoltà anche tecniche costruttive notevoli piuttosto di fare appunto la città bassa rifusa con il giardinetto per la bifamiliare eccetera ci vuole raccontare un pochettino c'è un'utilità in questa scelta? ma certamente sì allora nelle zone urbane concentrate cioè dove ci sono le città lo sviluppo in altezza è una cosa imprescindibile non si può non fare certo è l'unico modo per arrestare perché se guardiamo le statistiche vediamo che il consumo di suolo in Veneto ha raggiunto un livello tale per cui comincia a non essercene quasi più possiamo andare solo in altezza ecco abbiamo delle slide a proposito sempre dell'Istat certo molto chiare in cui si vede come proprio la provincia di Padova sia una delle più cementificate le più utilizzate dal punto di vista sediativo eccola lì le vediamo vediamo la seconda diciamo quella più a destra le aree più scure sono la provincia di Padova quella di Varese e quella se non sbaglio di Roma e di Napoli esattamente eccola là è dove si è concentrata di più l'urbanizzazione adesso se uno guarda i processi su scala nazionale poi si accorge che in realtà stanno crescendo di più delle regioni del sud per esempio la Basilicata per il semplice motivo che lì avevano delle percentuali risibili e stanno partendo un po' adesso con un tentativo noi qui ormai siamo alla saturazione qui noi invece di continuare a frignare perché l'economia è ferma non si costruisce più eccetera eccetera invece di dare incentivi come sono stati dati negli anni scorsi la famosa legge Tremonti per costruire i capannoni dobbiamo dare degli incentivi per demolire i capannoni che sono completamente fuori dal punto di vista statico demolirli e ricostruirli magari più alti e concentrando delle zone dobbiamo cominciare a demolire se si vuole continuare a costruire ma facendo così la rendita fondiaria non funziona più la rendita fondiaria è quella che ha portato alla devastazione del nostro territorio vuole spiegarci il perché di questa questione allora la rendita fondiaria è un meccanismo che funziona da sempre nel momento in cui un terreno non è più agricolo ma è urbano o a scopi commerciali il suo valore aumenta in modo esponenziale cambia destinazione d'uso quindi si ha una rendita fondiaria perché il terreno in quanto tale quella superficie vale molto di più quindi il business si fa nel momento in cui io trasformo io privato che trasformo ma il business lo fa anche il comune nel momento in cui con gli oneri di urbanizzazione che ora non sono più strettamente legati alle opere di urbanizzazione necessarie tiene in piedi il bilancio di sé stato e quindi un comune si trova alla frutta come si suol dire non ha più neanche le lacrime per piangere si trova con un territorio già compromesso e invece di avere risorse per poterlo mettere a posto è incentivato a dare ulteriori permessi a costruire per fare cassa perché poi sono tasse spesa corrente entrate correnti e sono un una tantum di spese che si possono usare lei mi voleva leggere qualcosa a proposito proprio di questo ma vede io ero ero in aero un giorno e ho comprato la stampa di Torino e ho cominciato a leggere un articolo senza vedere subito chi aveva detto quelle cose e sfido qualche telespettatore a a a indovinare perché per esempio si dice perché non pensare di riorientare l'edilizia verso il riuso degli spazi esistenti perché costruire su terreni agricoli mentre piccole medie grandi città hanno centinaia di migliaia di case sfitte e quartieri degradati e poi dice ancora dopo chiudo il problema sono i diritti di superficie ed un meccanismo troppo incentivante in materia di costruzione che permette ai comuni di utilizzare gli oneri per cercare di mettere a posto i bilanci 22 aprile 2012 intervista a un tal signor che si chiama Catania Mario Catania che è il ministro delle politiche agricole assolutamente dello Stato italiano dello Stato italiano certo quindi ormai ma introduco un'altra cosa lui dice lavorare i campi e prevenzione alle 5 terre i terrazzamenti hanno resistito mentre le frane hanno colpito le zone senza coltivazioni quindi è una doppia questione da non parte l'abbandono delle aree agricole dissesto idrogeologico dall'altro costruzione di zone che diventano urbanizzate dissesto idrogeologico perché le zone urbanizzate vanno sotto acqua esattamente per esempio come nel caso di Genova l'allusione a Genova Genova è emblematico perché intanto ha una condizione morfologica molto dura perché ho tutta la parte di montagna dietro quindi l'acqua viene giù come un fulmine come si suol dire se poi qualche qualche furbo di qualche tecnico ha pensato di prendere uno di questi tratti terminali di questi corsi d'acqua che vengono giù a velocità spaventose e ha pensato bene di coprirlo di combinarlo di costruirci una casa sopra di costruirci delle case vicine allora questo è un grosso problema se si fa a Padova a Mestre a Treviso è un dramma se si fa lì un dramma assolutamente cioè un disgraziato quello che ha fatto una cosa del genere oltre che un ignorante avremo ancora molto di cui parlare disgraziatamente il nostro tempo è finito per oggi sicuramente io spero che il dottor Tamaro voglia tornare in trasmissione con noi molto volentieri quando volete nel frattempo lo ringraziamo e lo salutiamo un arrivederci da Dedolo alla prossima puntata grazie a tutti Grazie a tutti.